ciao a tutti io sono andrea questo è via spazio miniature in questo episodio ho l'enorme enorme piacere di ospitare un'icona del wargame alessio cavatore grazie alessio di aver accettato l'invito è un vero un vero piacere sinceramente un italiano però un grande un grande nome internazionale dietro moltissimi wargame famosi quindi senti che ne dici se iniziamo proprio dagli albori come 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 fa come nasce la tua passione come sono i tuoi primi anni e come come ti sei avvicinato alla game workshop raccontaci un po sì la passione per il soldatino è iniziata molto prima della passione per il wargame nel senso che ero un ragazzino di 10 12 anni e ho scoperto i soldatini della 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 esci della airfix scala h0 piccoli piccoli 15 mm e e ho scoperto mio nonno mi ha regalato un libro che dovrei averne una copia qui un istante vado a prenderlo allora questi libri per esempio questo fantastico la seconda guerra mondiale fratelli fabbri editori si meglio dunque vediamo quando è stato nel 1975 a collana gruppo territoriale fabbri prima di stampa 1980 sono libri fantastici esiste esistono in inglese di fatti me li sono poi procurati anche in inglese e o le versioni per esempio qui l'altra versione di battle game books e galactic war queste fantascienze ma è lo stesso ciclo ci ci sono quelli sui cavalieri medievali e sono dei libri spettacolari sono dei libri che hanno delle illustrazioni molto belle anche tutta pagina sui cavalli questo quello sui cavalieri che probabilmente è il mio preferito quindi storici battaglia di hastings eccetera poi parla delle crociate ti fa vedere i castelli con la prima metà del libro è così e poi passa c'è la radica e poi c'è una una parte del libro che invece ha delle pedine e delle regole delle regole la parte in mezzo seguite da delle pedine che tu in teoria fotocopi le pedine non ci sono già più in questo vediamo no ci sono ancora è una copia in tomba ok degli standee che tu stanno sono gli standee stridenzionali che semplicemente dei rettangoli dei quadratini di cartone di carta tu stampavi cioè fotocopiavi ovviamente ai tempi e e e facevi le cose poi giocavi per esempio la battaglia di arsuf quindi crociate certo e ai tuoi esagoni di due miniature le regoline che sono una pagina per gioco questo la battaglia su questo al torneo ancora bellissime illustrazioni giustamente quale modo migliore per appassionarsi della storia se non giocando la storia dei play day war game guarda questo della sedia è una cosa spettacolare comunque questi libri mi hanno fatto imparare ad amare i giochi i war game i giochi in scatto i giochi di strategia se vuoi e la cosa il passo successivo è stato io questi soldatini ne ho tanti così il pavimento della mia cameretta un palchetto a quadretti a motiva quadretti aspetta aspetta allora ho cominciato a mettere i soldatini sui quadretti su queste norme c'è centinaia di soldatini e poi prendere le regole che erano di questi libri qui e adattarle adattarle per farle funzionare sul parimento e quindi facevo queste battaglie pazzesche inventavo le regole modificavo le regole facevo in modo che funzionasse giocavo da solo e normalmente poi vinceva comunque il gatto perché passava cominciava a fare strage di armate però comunque è stata una è cominciata la passione per il war game per i soldatini si è poi evoluta con metterli in spiaggia e tirare le pietrine che esplodevano facevano collassare i castelli i soldatini iniziavano di regole complicatissime e poi venire al sodo con avevo 18 anni forse o cose del genere giocavo a giochi di ruolo ho iniziato prima a giocare a D&D con degli amici eccetera e in un club di giochi di ruolo a Torino dove dove vivevo ho visto due due ragazzi che giocavano su un tavolo con delle miniature c'erano questi uomini ratto contro questi imperiali uniformi dell'anzichenecco eccetera sono rimasto la trasposizione di un amore ha scoperto Warren e quindi stiamo parlando del 90 1990 qualcosa del genere più o meno giù di lì e quindi in italia era una cosa pochissimo c'era era piccolo persino in inghilterra quindi figurati in italia e te eri al mare hai detto quindi giocavano in spiaggia al mare giocavo con i soldatini e tiravo le pietrine questo episodio della scoperta di Warhammer è in un club di giochi a Torino di giochi ruolo e niente innamorato ho cominciato a giocare a Warhammer sono andato a Londra in estate a prendermi sono andato in un negozio penso che fosse di Ork's Nest centro a Londra e io sono comprato il mio primo esercito che era Scaven ho cominciato a giocare nel 95 mi pare ho vinto il torneo italiano che era una cosa da quattro gatti ovviamente eravamo non so quanti saremmo stati una trentina quarantina massimo proprio se ricordo dove si svolgeva era lì a Torino o Milano allora ne hanno fatto penso che quella che ho vinto io fosse tipo la terza quarta edizione qualcosa del genere e ogni anno si faceva una città diversa organizzata da club locali c'era c'erano dei personaggi storici che erano poi padrini del gioco di miniature in Italia come Stefano Salvaderi come Fred Marcarini che purtroppo è mancato di recente sono questi personaggi che mi hanno introdotto a questo mondo Massimo Toriani, Stefano Gemi cioè sono questi i grandi papà del gioco di gioco in Italia e quindi sì ho vinto un ragazzino appena arrivato mi sono anche fatto abbastanza odiare penso perché era un po' competitivo come si svolgeva ah sì eh avevo un po' l'aria un po' l'intervelenato con quelli che oggi si chiamano power players ma senti comunque niente sono riuscito con i miei scaven a sconfiggere tutti gli avversari ho vinto il mio torneo nel 95 mi sembra e questo è stato l'inizio della carriera buffamente perché l'anno dopo il torneo a Genova si torneva a Genova e sono andato a difendere il titolo e guarda caso quell'anno c'era a Genova Gian Paul Brizigotti Gian Paul Brizigotti che al momento è il capo della Battlefront ma ai tempi era un impiegato della Games Workshop in particolare stava creando la Games Workshop Italia la Games Workshop Italia era stata appena iniziata con l'idea di tradurre i Warhammer in italiano e fare le lezioni italiane eccetera e quindi lui era lì in scouting per cercare delle persone interessate magari a lavorare su questa cosa io avendo vinto il torneo avendo difeso il titolo ho perso il titolo però comunque abbiamo parlato abbiamo parlato in inglese l'intensità di ricatto che il mio inglese era sufficiente e così mi hanno offerto un lavoro la Games Workshop Italia mi ha offerto un lavoro come traduttore nello studio e ho accettato con grande gioia dei miei genitori tipo era il quarto o quinto anno dell'università non stavo per biologia però era un periodo interessante perché vedevi i tuoi biologi colleghi più anziani che magari si erano appena laureati e così che facevano molta fatica a trovare lavoro a tirare avanti molti dovevano comunque migrare andare a lavorare all'estero eccetera perché non c'erano molti sbocchi in Italia e così ho detto ma sai che c'è io provo vado provo a fare questo lavoro che mi piace l'idea del tradurre giochi che mi piacciono se non funziona torno a casa finisco l'università e via prima e invece sono rimasto dunque nel 1996 sono ancora qui le cose che si fanno con passione diciamo sono quelle che tendenzialmente possono funzionare con più probabilità ecco quindi sicuramente aiuta sicuramente aiuta sicuramente non lo fai per per i soldi ho detto 30 anni un po' troppo no 20 anni è abbondante ok quindi si sei come traduttore sei partito come traduttore però poi insomma rapidamente sei scalato da ruoli più importanti oppure sei voluto del tempo e dicevo che sei stato fortunato perché eravamo proprio agli inizi sia come l'Università Italia ma soprattutto anche come Games Workshop vera e propria era ancora una ditta relativamente piccola rispetto a quello che è adesso quindi c'erano molte possibilità era in crescita molto veloce e io diciamo che ero mi sono trovato al posto giusto al momento giusto lavoravo come traduttore però eravamo la Games Workshop Italia in quel momento era dentro lo studio principale della Games Workshop e questo vuol dire che io ero nello stesso edificio a un piano di distanza da tutti i games designer storici da Gervis Johnson Andy Chambers Gavin Thorpe Nigel Stillman Rick Grisley cioè erano tutti lì e quindi io avevo la incredibile fortuna che quando traducevo le regole dicevo ma sarebbero qui non mi è chiaro e ti vado a chiedere a Gervis Johnson fantastico parlavo con Gervis giocavamo provavamo le cose hanno visto che ovviamente io ero un giocatore capace anche perché con loro forse non ero così cattivo come ero con i tornei e niente quindi ho imparato il loro mestiere se vuoi facendolo con loro perché ovviamente loro poi avendo a disposizione gente che comunque capisce quello che sta facendo ti usano ti dicono mi aiuti a play testare questa cosa nuova che sto scrivendo allora vieni coinvolto loro ti conoscono tu conosci loro dimostri un certo set di skills di cose che sai fare eccetera e alla fine quando viene fuori dobbiamo impiegare un nuovo game developer per lo studio ti interessa faccio direi sì sì fantastico non oso immaginare l'entusiasmo ecco di poter lavorare accanto alle persone che uno ammira per poi poterci poter fare una cosa altrettanto interessante decisamente anche perché francamente devo dire sono tutte persone fantastiche anche quello dal punto di vista umano non solo grandi game designer ma io ho sempre detto che soprattutto direi dico sempre che Rick Friisley è un po' il mio sensei nel senso di game design e siamo diventati amici siamo ancora amici è una cosa molto molto bella che dopo tanti anni siamo amici e Gervis Johnson che è il mio senpai è il mio collega anziano sono le due persone forse da cui ho imparato di più sia ti dico sia dal punto di vista professionale ma anche come persone sono degli esseri umani mi immagino che essendoci il gioco nel mezzo ci smorza un po' tutti alla fine è un po' la parte più dipende magari il power player come dicevi ma potrebbe c'è gente che forse prende il gioco un po' troppo sul serio lo dico adesso dopo che io ho smesso riprendolo troppo sul serio va bene ieri è cominciato così ho cominciato come case developer fino al 2010 quindi sono stati 15 anni abbondanti alla Games Workshop quindi diciamo quali sono stati alla Games Workshop i giochi principali a cui hai dato manforte oppure a cui sei proprio particolarmente legato a livello lavorativo allora ho iniziato a lavorare come assistente su Warhammer il primo libro è stato i conti vampiro la prima volta che hanno separato i conti vampiro dai da quelli di Cameron dagli egipti e quindi poi ho lavorato su Warhammer mi è stato dato il mio primo libro come lead writer che è stato l'impero ho collaborato a edizioni alle regole lo sviluppo delle regole di Warhammer il sistema principale poi mentre ero lì appunto anche per questa bella relazione con Rick invece l'ho aiutato anche a fare altre cose tipo Warmaster ho aiutato Tuomas a fare Mordheim quindi ho collaborato con degli autori come autore secondario addizionale aggiuntivo scusa l'italiano sono 20 e niente quindi Warhammer parecchi libri fino a quando poi diciamo il culmine è stato quando invece di fare solo delle armi solo fare degli armi gli scheggiare dopo un certo numero di armi finalmente è arrivato poi una edizione di Warhammer francamente non ricordo quale ho letto la quinta sotto porfolio può darsi dopo mi hanno detto vuoi essere il lead writer e quindi ho partecipato a fare la fine edizione cioè ho partecipato ero il tipo in al comando della quinta edizione e poi la cosa bella è stata che dopo aver fatto questo sono arrivato in cima al discorso di Warhammer e invece hanno cominciato a dire vabbè hai fatto un bel lavoro con Warhammer ci è piaciuto ti piacerebbe fare 40.000 non dico di no e quindi ho lavorato su codexes ho lavorato poi sull'edizione anche di Warhammer 40.000 qua non mi ricordo più sono passati troppi anni che numero era dovrei andare a prendere il rulebook e ricordarmi e comunque il e questi sono ovviamente avendo fatto i due giochi principali avere entrambi i rulebooks i regolamenti principali con vai Alessio cantore un onore beh cavolo sicuramente i più diffusi quantomeno in Italia più conosciuti sì dal punto di vista Warhammer sei al tuo lavoro ecco ma e poi è venuto fuori il discorso Signore degli Anelli è venuto fuori il discorso Signore degli Anelli la Games Workshop ha preso la licenza per fare il gioco sul film e quello è stato tu mi chiedevi qual è forse il gioco a cui sono più affezionato dal punto di vista personale professionale quello è stato un momento magico nella mia vita quello è stato un momento magico perché io sono sempre stato un tolkieniano nel senso io non sono religioso forse Tolkien e Signore degli Anelli sono la cosa più vicina a una religione nel senso il libro che sai citare a memoria che sai il Silmarillion non so tutta la generologia fantastico e ho le mappe ancora adesso qui me ne sono portate dall'Italia dove le avevo in camera mia ho ancora le mappe del Signore degli Anelli originali inquadrate e quindi avevano vinto la lotteria avevano in casa la persona giusta al momento giusto diciamo che sia loro hanno vinto la lotteria ma soprattutto io ho vinto la lotteria nel senso che nel senso che appunto per me è stata una cosa incredibile quando si è trattato di uno fare il wargame sul Signore degli Anelli dove Rick e io abbiamo iniziato insieme poi a un certo punto ha detto sai che c'è vai sei tu prendi abbiamo fatto il primo volume la compagnia il The Fellowship of the Ring insieme e dopo di che fanno Two Towers The Return of the King vai sei vai pensa sei te fantastico e niente quello è stato il momento se forse direi appunto il culmine della mia esperienza in Games Workshop perché uno lavoravo su Signore degli Anelli che per me è una passione che va oltre al professionale e addirittura ho avuto la fortuna di essere invitato sul set di conoscere gli attori Peter Jackson di essere nel film stesso non so se sei una delle poche persone nel mondo a cui non ho ancora raccontato questa storia ma sono finito a fare il Cavaliere di Rohan in una scena non lo sapevo non lo sapevo sentite eravamo lì a fare a chiedere a Peter Jackson delle informazioni sul gioco per fare il gioco così e mentre eravamo lì lui fa ma non è per caso volete fermarvi ancora due settimane che stiamo facendo delle scene in più per il ritorno del re che doveva ancora uscire vi metto dentro come comparsa no? sono l'onzo troviamo i miei fratelli Perry Perry che sono i miei grandi amici adesso forse i miei amici inglesi con cui sono più legato da Alexander e Brian Nelson eravamo possiamo fermarsi due settimane in Nuova Zelanda però se ci metti come comparsa torniamo in Inghilterra e tra due settimane torniamo a fare le comparsa e lui ci fa no non ci credo che siamo letteralmente agli antipodi letteralmente agli antipodi di Inghilterra davvero ma non venite di poco voi per fare le comparsa certo assolutamente e infatti ti fai due giorni di aereo torni in Inghilterra lavori per due settimane due altri due giorni di aereo fare la comparsa ma ci sta tutto assolutamente e infatti sì sono nell'Occano del Rey nella versione Directed's Cut perché la scena nostra non c'era la versione del cinema o sì è stata una cosa un'esperienza mistica come puoi immaginare cioè essere essere investito come il Cavaliere di Roma a girare per il set fantastico ti fai poi vai a mangiare non sei seduto al tavolo di fianco a te si siede Aragorn il costume da re si vedevi a mangiare poi ti alzi vai a fare il caffè e lui ti arriva di fianco e fa passami il caffè fantastico sentite poi di Gomorra è una persona di nuovo fantastica perché si comincia a chiacchierare ti racconta ti fai gli autops ti racconta le poesie è una persona molti di quegli attori erano poi delle persone molto belle da parlarci eccetera quella è l'esperienza direi mistica maggiore la capisco e comunque avere la Games Russia per quel periodo aveva tipo 2003 giù di lì 4 aveva i tre sistemi principali signore degli anelli vuoi rendere warhammer 40.000 i tre regolamenti principali dei tre giochi principali bye Alessio canatore era una bella cosa direi sì ecco ma qual è qual è nel nel processo quindi nel tuo lavoro di quel tempo la cosa che più che più ti piaceva fare che più ti entusiasmava è quella che invece ti sembrava un po' più noiosa se c'era una cosa che ti sembrava più noiosa più sforzata sicuramente allora la cosa che forse mi piace di più fare e qui forse esprimo il valore migliore è fare adattare la storia degli elementi della storia in regole fare delle regole che rispecchiano degli elementi del background in modo molto semplice questa è forse la mia skill migliore come designer di Wargame ho una un desiderio un desiderio un'esperienza che si è sviluppata negli anni è diventata sempre più acuta con gli anni di cose perché divento vecchio e non ho tempo cioè il mio cervello non riesce a ricordarsi tutte queste regole mi piacciono veramente i regolamenti minimalistici veramente ridotti al minimo e forse è uno dei motivi principali per cui alla fine abbiamo siamo separati per il 2010 quindi ancora parecchi anni dopo 5-6 anni dopo alla fine abbiamo cambiato direzioni diverse con anche il Swash anche perché io insistevo molto lo direbbero troppo ovviamente è una questione di gusti sul quanto avrei semplificato le cose cioè ci sono stati dei casi dove io spingevo per la visione che avevo di una semplicità di regole minima perché secondo me la cosa fondamentale che ti illustra bene è la cosa che io mi riferivo alla verità usavo il termine chest-like statistico come una cosa appositiva nel senso se il mio ideale se vuoi nel design di qualunque gioco ma anche nel wargame idealmente il momento quando tu giochi a scacchi tu non pensi alle regole degli scacchi tu pensi alla strategia le regole non ci sono non è che pensi come si muove l'alfiare posso prendere la torre perché queste cose non esistono cioè tu stai pensando le regole sono nel background quando pedali sulla bicicletta non è che pensi com'è che devo girare i piedi cioè sono quelle cose che dici le regole non esistono penso alle regole penso al gioco alla strategia quello è l'ideale il graal che volevo in teoria cercare di arrivare il più vicino possibile con un wargame è un graal perché è una missione una ricerca una cerca una quest possibile non è un sistema semplice come gli scatti doveva ritirare ma pochissimi deve essere purtroppo un minimo di complessità nel gioco altrimenti perde anche magari trazione ci sono delle variabili enormi quindi non puoi essere così preciso e il discorso di quante quello che stavi dicendo tu è interessante perché quante regole ci devono essere c'è un punto in cui le regole sono troppe troppo poche esiste un posto io avrei argomentato che non esiste un posto dove le regole sono troppo poche nel senso che secondo me non è che la quantità di regole detta quanto è gioco interessante vedi scatti si può dire che non sia un gioco interessante ma vorrei un po' più di regole no no non c'è bisogno di avere più regole e quindi secondo me l'equazione non è che un gioco più ha regole più è interessante e quindi cerco di rimuovere più regole possibile forse ho esagerato in questo minimalismo e sicuramente questo ha contribuito a separare no invece io ecco la vedo aspettamente come te infatti ti ponevo quella domanda proprio in quel senso lì perché anche secondo me il gioco ben riuscito è quello che riesce a trovare il compromesso perfetto tra il minimo indispensabile di regole e l'interesse insomma rendere l'idea di gioco nel minimo regolistico insomma che non sia così complesso da dover tenere a mente chissà quali parametri ma essere comunque interessante quindi non è facile e la cosa non è facile esattamente sono le parole giuste la cosa interessante che uno realizza dopo anni di provare a fare questa missione impossibile ti rendi conto che essere prolissi in termini di regole ma anche in termini di letteraria suppongo è facile assolutamente sì perché se butti dentro migliaia di regole migliaia di variabili migliaia di cose il gioco è anche abbastanza facile da camuffare e bilanciato questo gioco funziona ma ci sono talmente tante regole non lo so in realtà anche perché gioco con questi ragazzi qui loro giocano in un modo gioco con quell'altro posto là e giocano in un modo diverso hanno capito in un modo diverso giustissimo e quindi avere delle regole minime ti espone ti espone molto al se hai un sistema sbagliato con regole minime è ovvio non si nasconde è una una massima che mi piace molto che uso molto sia per le regole ma anche per lo scritto è una una quote una citazione di Mark Twain che dice secondo me è perfetta per questo dice volevo scriverti una breve lettera ma non avevo tempo e quindi ti ho scritto una lettera lunga fantastico è verissimo è verissimo è verissimo è vero è troppo facile buttarsi giusto nel più ci sta almeno ho 200 parole ti devo dire quello che voglio dirti in 200 parole deve essere significativo e completo no aggiungi ma sei tanto prima o poi la brevità è difficile la brevità è molto difficile è più difficile della progressività è vero è vero e quindi diciamo è questo che ti ha un po' slegato dalla game workshop ai tempi sicuramente ho avuto le mie discussioni interne capi che non aiutano mai ovviamente alla carriera non essere d'accordo con le direttive generali non ti promuove una lunga carriera di fatto le cose sono cominciate alla fine nel 2010 diciamo che avevo sia lo stress interno anche perché avendo fatto diciamo tutto quello che uno può fare perché hai fatto i tre sistemi principali hai fatto la regolazione comincia a dire sta stretto dove vado cioè dov'è il prossimo livello e lì il prossimo livello era cambiare non essere un game designer diventare un manager in quel momento della mia vita magari in altri momenti della vita uno avrebbe detto no magari pazienza faccio il manager per quel momento cercavo di restare designer è una delle cose dell'identazione ovviamente erano anche le altre ditte che appunto stavano nascendo in quel periodo attorno in questa zona qui a Nottingham dove ovviamente ex colleghi ti dicevano mi piacerebbe fare dei giochi così se solo avessi un buon designer ti guardano e dici chiaro chiaro la tentazione quindi avevi anche questa tentazione la tentazione di avere altri posti dove e quindi dove sei passato quindi successivamente il prossimo passaggio è la Mantic Games quindi o c'è stato qualcuno prima avrei sicuramente finito per lavorare o per la Mantic o per Warlord Games che erano i due diciamo ditte con cui avevo relazioni più forti o entrambe anzi per esempio cross con parecchi conoscenti che hanno lavorato per entrambe anche contemporaneamente ma invece qui entra in ballo un mio amico d'infanzia con cui sono andato dalle elementari a Torino eccetera che è un imprenditore seriale si chiama Alberto Giusti è un imprenditore seriale assolutamente super imprenditoriale cioè è una persona che comunque in confidenza con me quando io ho detto ma sai adesso dall'agentazione ho pensato magari da lavorare qui con una cosa e lui mi fa ma perché vuoi lavorare per qualcun altro ma scusa ma fai una dittatura la parte a te stessa che cacchio dici la sicurezza del lavoro mi fa che sicurezza del lavoro non esiste una cosa del passato c'era da tuo padre la sicurezza del lavoro ma il giorno d'oggi non esiste flessibilità eccetera e quindi alla fine martellato finché non ha non mi ha convinto a fare una ditta con lui cioè che lui ha contribuito ha investito eccetera cioè non è che ha solo parlato ha anche messo ha messo i soldi dove mette la bocca una cosa che dimostra che ci crede quando fa quel passo lì no perché sono solo sai a parole sono bravi tutti quando invece dice no vabbè siamo soldi vai allora è più solida la cosa e così quindi abbiamo abbiamo fondato la River Ross è nata la River Ross 2010 l'anno in cui ho smesso di lavorare per la Games World quindi fin da subito hai aperto azienda proprio ok fantastico ovviamente sempre con l'idea di voler ho iniziato lavorare a lavorare con queste due ditte però non come un contendente come contratto di consulenza dove io appunto da consulente esterno avevo un contratto abbiamo iniziato a lavorare insieme e qui si sono nati Kings of War e Fulltaction sono i primi due prodotti di questi servizi della River Ross fantastico ecco come è stata questa esperienza di mettersi in proprio e continuare a fare quello che amavi fare soprattutto per queste nell'ottica di queste due aziende che erano in crescita e che affioravano sul mercato sì diciamo che l'idea della River Ross in realtà era stata fondata con l'idea di fare i propri prodotti e ovviamente invece all'inizio soprattutto dove il capitale è basso e bisogna di meno rischio possibile vendere dei servizi è una cosa più meno rischiosa assolutamente nel senso che non devi investire up front ovviamente investi il tuo tempo che non è ideale dal punto di vista dello sviluppo della ditta perché ovviamente il tuo tempo è limitato se lavoro su giochi per altre ditte non sto lavorando a giochi per la River Ross e quindi non sto facendo crescere la River Ross la faccio crescere come ditta che vende servizi ma non come ditta che fa prodotti e il fattore limitante della ditta che fa servizi in quel periodo ero io nel senso che non posso vendere degli Alessio Cavatore a tutte le varie cose clonati solo in realtà poi la cosa interessante da quel punto di vista è che abbiamo ampliato il nostro parco di collaboratori alla Games alla River Ross quindi abbiamo dei nomi di altri autori scrittori game designer gente che parecchia gente che ha lasciato la Games Workshop in tempi più o meno simili anche perché la Games Workshop era in un periodo brutto e quindi stava lasciando andare parecchia gente in questo modo negativi per cui alla fine ho detto ma sì forse è il momento giusto una sorta di aggregatore diciamo la River Ross in quel momento sì assolutamente infatti Rick Priestley ha lavorato per la River Ross addirittura cioè Andy Chambers Gavin Thorpe o ho ho fatto dei contratti con parecchi ex colleghi che a quel punto erano interessati ovviamente a fare dei contratti di servizio mi sbaglio nel dire che la Warlord era fondata da Rick Priestley o o Rick è un socio sì il fondatore principale è un personaggio che si chiama John Stallard che era un mega venditore della Games Workshop perché è il padrone principale della Warlord ci sono altri soci tra cui Rick e sicuramente Warlord Bolt Action sono stati la dita con cui ho collaborato di più ma anche Mantic comunque come Mantic ci sono lavorati insieme per tre anni all'inizio della River Ross adesso meno continuiamo a lavorarci con la Mantic ma non a quel livello mentre con la Warlord sicuramente facciamo ancora molto ma ho suonato anche con la Mantic abbiamo fatto parecchi giochi ne stiamo facendo due al momento quindi non è che non lavoriamo adesso ovviamente la River Ross è cresciuta home team i game designer i game designer eccetera interni impiegati e insieme a loro i servizi vengono venduti a varie ditte tu mi dicevi di recente che hai visto alcuni di questi prodotti in giro mi sembra per esempio stiamo facendo anche un gioco per la Draco Draco Studios che si chiama Dragon Bond quindi stiamo facendo parecchie consulenze per la Mantic ancora abbiamo quello per il loro gioco sull'Umbrella Academy stiamo lavorando un altro non so se posso no non posso parlare per la Warlord ovviamente sono sempre impiegato con Poltac quindi continuiamo a fare i servizi sono una parte di quello che fa la River Rosa ma non è solo più quello che fa la River Rosa adesso come sai abbiamo parecchi prodotti quindi per curiosità ad esempio giochi della Mantic come hai citato King of Wars o per esempio Warpath che portano il tuo nome sono giochi che nascono con te o che comunque erano già avviati e tu hai contribuito allora King of War era un'idea di Ronnie del capo della Mantic che voleva lanciare questo gioco fantasy e quindi lui ha diciamo creato il background delle razze che erano presenti in questo mondo e mi ha dato un brief dicendo voglio un gioco fantasy con questi parametri che funzioni così 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 che abbia queste razze perché ovviamente lui voleva fare concorrenza alla Game of Wars e e quindi io glielo ho scritto basato su questi parametri su queste cose poi essendo agli inizi ho contribuito anche al background ho contribuito poi ho scritto le regole quindi ho influenzato parecchio Bolt Action in modo simile la Warlord aveva ha comprato un set di miniature che si chiamava un range di miniature che si chiamava Bolt Action che però non aveva un gioco e quindi allora hanno comprato le mold hanno comprato questo set questo range hanno detto ci piacerebbe fare un gioco basato su queste cose con questi parametri di nuovo così così e di nuovo io gli ho scritto la regola in questo caso ovviamente il background in questo caso ma per esempio la meccanica dei dadi azione famosa in Bolt Action è opera tua o la meccanica dei dadi azione per esempio è opera tua ok sì sì quella è nata perché durante il brief cioè nella fase iniziale quando si discute quando l'arriverò io l'arriverò i miei ragazzi ti fanno un servizio di design la prima fase è quella del briefing ed è una fase molto importante dove sostanzialmente io ti bombardo bombardo il cliente con centinaia di domande perché devo capire che cosa ha in mente il cliente che cosa vuole perché spesso buffamente i clienti non hanno un'idea chiarissima di quello che vogliono hanno un'idea fumosa ma sì vorrei un gioco così 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 voglio un dettagliatissimo ma semplicissimo e ti dici sì vabbè però e deve durare mezz'ora ma con 500 miniature per giocatore mi fa sì forse ok forse facciamo in dire con 500 miniature eccetera eccetera e quindi c'è una fase di di brief di domande eccetera dove appunto uno dei elementi del brief era volevano un'attivazione non I go you go che era una parte del parametro quindi una cosa un po' più moderna se vuoi poi hanno detto poi hanno detto vorremmo un gizmo non so come tradurlo in italiano un qualcosa un cosillo un qualcosa che si che diventi sinonimo del gioco che diventi una definizione una definizione del gioco abbiamo pensato a tipi di basette tipi di misurini abbiamo sperimentato pensato eccetera e poi io tra i vari tentativi le varie diciamo il periodo quello che chiami high level design il design di altro bello prima di cominciare a scrivere quindi quando stai provando le cose più astratte ho pensato a un dado ho detto il dado sarebbe bello avere un qualcosa che pensavamo un'attivazione a unità quindi c'è sempre il discorso quando un'unità si attiva la devi marcare come attivata ti marcasse quello che fa l'unità ma ci sarebbe interessante se oltre a marcare che l'unità è stata attivata ti dicesse anche cosa fa l'unità ok e quindi si è sviluppato il discorso di quello è il discorso della borsa con dentro i dadi per l'attivazione eccetera è venuto a fare quello non ho inventato la meccanica di estrarre le attivazioni dalla borsa cioè è una cosa che è dagli anni 70 non è una cosa nuova però sì l'idea di prendere questa cosa mischiarla con il tipo di attivazione fare sei attivazioni ovviamente come tutti i giochi libri i film ovviamente sono sempre fatti di elementi esistenti nel senso di inventare qualcosa di assolutamente nuovo però trovare l'amalgama giusta è il segreto esatto scegliere gli elementi che vuoi e che funzionano insieme è quello che fai quando fai design nuovo in realtà il dado è geniale perché non è neanche non è una barriera fisica che te dice se una basetta specifica un righello specifico sono un oggetto in sé per sé invece il dado è come dire onnipresente nei giochi quindi secondo me la quadratura è un simbolo di un gioco che è il dado è geniale è stata un'idea felice è stata un'idea felice è funzionata bene poi gli abbiamo messo anche la freccina così fa anche il dado lo scatto poi gli abbiamo il discorso del del pinning anche abbastanza sì la semplicità del del fatto che il pinning è rappresentato in modo alla fine molto semplice con i pinning market eccetera è venuto anche direi bene la cosa ecco quella è un'idea che ti dà perfettamente chiarifico il mio metodo di pensare quando faccio un design il corpo a corpo di voltage perché io una cosa che nei wargame ho sempre trovato difficoltosa è fuggire le unità in fuga nel senso ah le regole dicono che devi fuggire verso il tuo lato del tavolo va bene ma c'è un'unità nemica giusto in fronte ah ma se c'è un'unità nemica allora vai vicino verso il tavolo più vicino ma c'è un'altra maniera dove vengono loro ah no ma allora c'è una regola giusto invece di continuare a aggiungere adesso io ho detto aspetta un attimo facciamo un gioco dove non si scappa proprio dove quando un'unità sbaglia il test di morale e scappa o si arrende o si accucci si nasconde l'effetto è la tolgo dal tavolo perché perché sostanzialmente sì magari stanno scappando magari poi si si fermano magari poi si raccolgono si raggruppano e riprendono però per questi sei turni per questa ora di tempo reale così non ci interessa quello che fanno tra due ore quando si raggruppano eccetera il discorso è il combattimento ah ma cosa succede quando un'unità è impegnata in combattimento con un'altra unità e sono legate insieme e poi arriva un'altra unità e le carica eccetera e faccio no non esiste quando carico uno dei due muore non c'è nessun combattimento che continua fino alla fine questo il discorso di dire questa è una situazione un po' incasinata aspetta togliamola col macete questa ti spiega un po' la mia filosofia di quello che dicevo prima ma il gioco funziona meglio o peggio se tolgo questa cosa del ma lui fugge poi può tornare ma forse sì forse no poi vabbè c'è gente che invece vuole quel livello di dettaglio sì sì certo certo ecco ma diciamo nella tua carriera c'è una regola a cui vorresti quasi attribuire il tuo nome diciamo la regola Alessio Cavatore che ti in qualche modo rappresenta di più domandona domandona diciamo che il sistema di Boltangio sicuramente mi piace mi piace ne sono orgoglioso il sistema del diciamo il sistema base dei giochi River Horse non tutti i giochi River Horse però parecchi dei giochi River Horse hanno un tema comune se vuoi che usano i dadi dei giochi di ruolo i dadi da 4 da 6 da 8 eccetera perché mi affascinano molto quei poliedri soprattutto se sono di plastica trasparente tipo gazzaladra anche perché ci ho fatto degli studi metafisici sui solidi platonici se guardi su internet solidi platonici rispetto ai ai dadi da giochi di ruolo fantastico veramente da ridere da imparare anche cose interessanti per esempio non è un caso che i dadi della River Horse i dadi del set della River Horse ha un colore ogni dado ha un colore perché sono colori degli elementi che sono gli equivalenti delle forme degli elementi che Platone aveva assegnato a ciascuno dei solidi perfetti che sono i dadi appunto fantastico ti lascio proprio comunque il sistema principale lì è che non c'è matematica non ci sono più 1 meno 1 più 2 meno 2 meno 3 nei nostri sistemi non devi fare matematica semplicemente c'è un numero di base il successo uguale a 4 devi fare 4 ok per qualcosa però un guerriero non non abile tira un dado da 4 il suo profilo che abilità sei quanto è forte questo guerriero rosso perché i dadi da 4 sono rossi quindi rosso da 4 oppure giallo giallo da 8 però devi sempre fare 4 più stai forte più il colore va verso il blu che il blu è il dado da 20 l'acqua elementare parlando di elementi è l'acqua il dado da 20 è il dado più forte nel sistema e quindi hai rispecchi la difficoltà l'abilità eccetera con quale colore nel senso quale dado stai usando ma il risultato è quello fisso non calcoli cambi il dado ah questo è un bonus ok allora uso il prossimo dado più forte quindi nessun modificatore aggiunge al successo ma cambia il dado c'è lo shift del dado ti sposta ti sposta sul dado quindi oh sicuramente sono un dado da 4 sì però il bersaglio è immobile vabbè allora puoi usare il dado da 6 perde vai da rossa verde mi vengono a mente anche altri giochi che usano questo sistema perché ho visto recentemente diciamo che noi l'abbiamo usato per parecchi dei nostri giochi spero che qualcuno l'abbia copiato oppure oppure la cosa che ho visto spesso nel game design e penso di nuovo nei libri anche da quelle che sono nella scienza succede spesso che di fronte agli stessi parametri il cervello umano dà la stessa vista esatto si sposta fantastico e però poi qualcun altro che ha fatto quella cosa lì e la natura umana è mi hanno copiato esatto mi hanno copiato è vero in realtà a me è successo un paio di volte durante la carriera è successo ed è incredibile ed è bruttissimo francamente quando tu dici ah che bella questa idea la faccio io penso che sotto sotto poi qualcuno ti dice esatto ma è uguale l'hai copiato io penso che sotto sotto in questo gioco qui esatto in questo gioco qui non l'ho mai sentito sì 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 io penso intimamente un po' tutti ci siamo passati no? di avere le umano ti alzi la mattina c'è un'idea nuova di qualsiasi genere no? poi magari vai su internet o ti incontri con altre persone e scopri che in realtà l'idea esiste assolutamente e quando l'avevi fatta prodotto ti arrabbi sicuramente sicuramente ti viene ma l'istinto è quello che ti abbiano copiato mi è successo mi ricordo almeno due episodi brutti mi è capito dove è successo esattamente con gente che mi ha detto hai copiato sai che arriva la gente stai presentando un gioco nuovo a una fiera guarda che bello dici come ah che bello questo sistema interessante arriva qui arriva uno e fa il 1975 questo gioco qui ecco hai copiato il mio gioco mai sentito nominare ecco però in quel caso si entra un po' in un ginecraio come cioè a livello legale come si sbroglia eh Bruno ma infatti ci sono stati dei casi dei casi legali è uno dei motivi per cui se la gente mi manda delle idee ah ho avuto un'idea per un wargame per un questione ti mando non mandarmi niente assolutamente no no davvero lo dico sempre no 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 parliamo a livello molto astratto ti do dei consigli va bene ma non farmi vedere nulla perché poi due anni dopo mi fai eh ti faccio caso perché in questa ti ho fatto vedere questa regola e tu l'hai copiata che io magari al tempo ti ho detto che l'ho vista perché vorrei essere gentile in realtà non l'ho letta perché non ho tempo però ti ho detto che l'ho letta perché sono gentile no lo faccio questo non lo faccio più ho imparato a non farlo più sì sì l'hai letto sì 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 l'ho letto sì sì molto interessante sì sì no non l'ho letto poi due anni dopo hai copiato il mio regolamento ma non l'ho letto ma mi hai detto che l'avevi letto ok sì è vero quindi diciamo diciamo l'idea la regola Alessio Cavatore è un po' quella dei dadi dei dadi che scalano sicuramente la è sicuramente la cosa della Rivero è una regola in base della Rivero diciamo che ci sono nel gioco di ruolo di recente abbiamo fatto parecchi giochi di ruolo con la Rivero forse è una cosa di cui sono più sono più attaccato come regola è il fatto che sai quando fai i giochi di ruolo e siamo in cinque e giovedì Gigi non può venire vabbè giochiamo lo stesso è il personaggio di Gigi eh lo uso io lo usa lui oppure non lo usiamo proprio facciamo finta che non ci sia poi la settimana dopo Gigi torna e il personaggio c'è di nuovo certo o lo usa qualcun altro oppure è sparito queste cose a me hanno sempre lasciato un po' la mano in bocca non mi piace che il personaggio sparisca e anche usarlo da altri e così nel mio gruppo di amici abbiamo trovato la soluzione quando io facevo il master ho detto faccio sempre mi assicuro che all'inizio di ogni campagna loro offendano qualche divinità in qualche modo e questa divinità li maledisce e gli dice adesso a caso voi quando meno ve lo aspettate uno di voi così a caso si trasformi in una statuina di metallo una miniatura in realtà una miniatura che rappresenta il personaggio così gli altri poi ti possono prendere portati in giro eccetera però così e questa cosa io l'ho messa nel regolamento del gioco di ruolo di My Little Tone ok come una cosa la maledizione delle statuette fantastica e questa l'ha fatto diventare sistemica in senso così è una bella idea certo almeno non distrugge la storia giusto 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 bello bello sì sì concordo mi piace senti non so se mi hai già risposto ma non mi sembra quale 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 ti piace meno della parte del tuo lavoro che ti piace meno nel nel processo parlare di soldi ci credo sì non sono fatto per per essere la cosa brutta è che sendo un imprenditore e parli sempre solo di soldi cioè non passi la maggioranza del tuo tempo a fare di soldi a fare quota a fare preventivi a fare a fare a tirare sui fornitori i clienti sì quindi soldi la parte amministrativa la parte finanziaria è la cosa che io trovo più difficile perché di carattere non mi piace la negoziazione non mi piace non sono c'è gente che se la gode c'è gente a cui piace negoziare si gode questa parte io ho assolutamente una cosa caratteriale uno ti piace o non ti piace anche io mi ritrovo in questo bene bene ok nella creazione di un nuovo gioco quando quando sei diciamo agli albori che ancora sei nel brainstorming o come dicevi prima parli col cliente siete a bozzare l'idea ci sono c'è qualcosa in particolare che ti piace di quel processo c'è qualcosa è molto bello è molto bello è molto maieutico nel senso socratico della cosa nel senso che aiuti ti senti quasi come stai aiutando quest'idea a partorire a venire alla luce e secondo me anche molto importante e forse è la cosa più importante perché come ti dico a volte i clienti non hanno le idee chiare perché sai avere un gioco in mente è un prodotto forse in mente e cercare di farlo diventare una realtà è un processo complicato difficile altrimenti lo faremo tutti e parlare mi è successo spesso della persona che non l'ha mai fatto un processo del genere però ha un'idea che vuole far succedere durante questo processo gli dai una solida una solida iniezione di realtà nel senso che dici allora no ma ci hai pensato perché scusa se tu vuoi fare tutti questi dettagli su ogni pezzo ma vuoi che la gente si compri 50 miniature questo gioco durerebbe 6 ore meno non 20 ore ma tu vuoi che il gioco sia un gioco veloce e hai tutti questi dettagli e vuoi tante queste miniature e gli dici no devi scegliere o vuoi un gioco con tanto dettaglio ma allora poche miniature inquisitor oppure vuoi un gioco con poco dettaglio tante miniature 40 mila cioè non puoi avere voglio tutto un dettaglio di quel gioco lì ma anche le quantità e lo scopo di quello là e non funziona così però giustamente la persona che non l'ha mai fatto non può in buona fede gli sfugge il processo gli sfugge la realtà della cosa e quello è il motivo per cui parlare con un esperto uno che l'ha fatto mille volte a fare la definizione di esperto che mi piace tantissimo è una persona che ha fatto tutti i possibili errori in una carriera e quindi ti può dire no se fai così non funziona perché vai a finire male perché è quello ah ma allora facciamo così no se fai così vai a finire male ecco ma a proposito di errori nella tua carriera c'è c'è un gioco un manuale una regola qualcosa che ti ha preoccupato particolarmente che ti ha messo in crisi che non ci hai dormito beh diciamo che questo penso che molti dei delle persone che hanno giocato con gli armilist che ho fatto io quando ero nella fase degli armilist in Alla Games Workshop sarebbero tutti d'accordo nel risponderti gli scaven perché io sono sempre stato un fan degli scaven nel mio primo esercito ce l'ho ancora sotto in garage il mio vecchio esercito degli scaven quando mi sono quando ho fatto ho avuto l'onore il piacere di fare il libro di scrivere il libro degli scaven mi sono un tantino invito e rito e devo dire che tutto sommato non mi dispiace il lavoro che ho fatto però ci sono un paio di regole in quella in quell'armilist che erano decisamente troppo forti decisamente troppo forti cioè ripensandoci guarda dire ma perché la Gatling ha forza 5 doveva avere forza 4 ma perché Warpline ha forza 5 doveva avere forza 4 dici non so perché ci stavo e dici riconosco che lì dici no era proprio sbagliato cosa cacchio stavo pensando fare una cosa del genere che poi vabbè mi per tutta la colpa io però in realtà è stato play test però ovviamente lì sei il lead designer è colpa tua e sicuramente lì ho detto e tra l'altro la Gatling mi parlavi di regole tipiche lì e quella regola di come funziona la Gatling del tanto che tiri un dado poi tiri un altro dado puoi decidere di fermare e tirare un altro dado e si aggiungono però se fai un doppio esplode qualcosa da male quella regola che io sa che non esisteva prima Gervis mi ricordo che mi era molto complimentoso su quella regola ha detto è un buon lavoro quella regola bravo è forte è forte come idea è della Gatling però purtroppo è stato rovinato il fatto che adesse forza 5 se facciamo forza 4 andava bene andava bene così non c'era bisogno quindi si forse si avevano un po' sgravati come si dice in termini stavo freddo sono forse la cosa di cui mi sento più in colpa d'accordo per questi anni ecco ma il problema lì è sempre quando un prodotto che è anche pretestato abbondantemente però il gruppo di lavoro magari è sempre il solito si gioca voglia tante partite si cambiano le fazioni si girano si ruotano però poi quando esce al grande pubblico le combinazioni diventano n.mila quindi questa deve essere una cosa impossibile probabilmente da bilanciare te che ne pensi? è un processo ovviamente impossibile da bilanciare al 100% perché con tutte quelle variabili non potrei mai essere non è scacchi tra l'altro anche scacchi non è bilanciato la cosa che dici sempre scacchi è perfettamente il 100% bilanciato no il bianco muove per prima è vero quindi anche scacchi non è bilanciato l'unico modo per giocare è bilanciato di far giocare sia far giocare sia il bianco cioè il giocatore io e te giochiamo io gioco con i bianchi e tu con i neri e poi io gioco con i neri e tu con i bianchi e quindi abbiamo però anche quello in teoria comunque non è la stessa cosa perché la prima volta che giochiamo non ci conosciamo la seconda volta abbiamo già conosciuto il nostro stile di gioco il livello di gioco eccetera quindi non è esattamente bilanciato anche facendo così quindi proprio il bilanciamento completo non esiste ovviamente in un wargame con tutte le migliaia di variarli cioè una delle cose più interessanti che forse di nuovo ho molta esperienza nel fare sono i punti quando fai i punti victory point ma anche il valore dei pezzi che dici quanti punti sono questi poi decidere una cosa del genere puoi fare delle formule basate sui fattori numerici nel pezzo quindi il movimento la forza quel che dè insomma l'armatura eccetera però poi ci sono molto spesso dei fattori non numerici ma aleatori come non lo so questo fa paura questo è immune alla psicologia questo c'è il veneno eccetera e di cominci a dire ci infili le abilità è finita è chiaro e lì devi andare ti devi fare delle regole scrivertele farti i tuoi parametri e poi aggiustare col play testing però di nuovo è un processo che non potrei mai dire se io metto 10 modelli con questa regola contro 20 modelli con quella regola che hanno lo stesso valore in punti sono sempre uguali in qualunque circostanza dipende dal terreno dipende dal resto dell'esercito dipende dal tipo di esercito dalle regole ovviamente il bilanciamento in quel senso non esiste diciamo che da esperienza secondo me hai fatto un buon lavoro quando la gente discute di che cosa sia la cosa migliore la cosa più sgravata eccetera eccetera finché c'è una discussione e la gente più o meno non è d'accordo hai fatto un buon lavoro se sono tutti d'accordo che sgrava e sgrava lo stanca allora c'è un problema perché non c'è nessuno che dice no quella non è la regola quella è la cosa da fare allora è un problema allora ricominci a dire ecco ma cosa c'è dietro spesso le grandi aziende che non fare nomi che non vogliono cambiare l'army list che si ostinano nonostante sanno che è sbagliato a dire no io lo tengo così è play testato funziona perché sbagliato è soggettivo nel senso che se tu da una parte potresti esagerare a non cambiare mai niente anche se hai un problema serissimo sei per esempio mi ricordo lo steam tank c'è stato un periodo in cui era troppo sgravato eccetera così che rovinava i tornei eccetera una cosa a dire non reagisco anche a quel caso lì dove ovviamente tutta la comunità mi dice quel pezzo lì è sbagliato allora non continuano a fare niente è un estremo è una girazione dall'altra parte c'è invece ascolti in continuazione la comunità mi danno 10.000 mi dicono 10.000 cose diverse che sono sbagliate e io cambio tutto ogni 10.000 cambio le regole pubblico dell'errata così a quel punto hai il problema invece opposto dove la gente non capisce più quale cacchio sono le regole in quel momento ma questo quanto vale 10 punti ah no ma c'è una errata che dice 7 punti ah ma questa errata qui che è uscita l'altro ieri dice che è 7 e mezzo no ma aspetta ma quella regola lì non ce l'ha più perché è uscita quest'altra poi è assolutamente interessante questo argomento perché ho sentito parlarne un altro autore che diceva devi stare anche attento a quale voce ascolti della comunità perché i giocatori più esperti non saranno mai come giocatori meno esperti se ascolti quelli più esperti ti limiti in una direzione quelli meno esperti ti limiti in un'altra direzione quindi trovare l'equilibrio penso sia boh non so come ci riesci ma quella decisione quella decisione è soggettiva dipende dalle dalla della politica della ditta certe ditte sono più per esempio io vedo la differenza tra l'amantica e la warlord la warlord è più se vuoi è l'antica nel senso che è più designer led nel senso che il designer del gioco ha più autorità nel decidere appunto dove tirare quella riga di dove si ascolta la community no l'amantica è più community led ma giustamente perché ovviamente l'amantica si basa molto su crowdfunding e quindi deve essere deve avere la crowd quindi ascolta di più la community della warlord non che la warlord non ascolti per carità io passo parecchio tempo a rispondere alle domande risposte eccetera eccetera però appunto sono livelli diversi dipende dalla politica aziendale dal carattere dei padroni dei manager degli autori non esiste una risposta esatta giusta o sbagliata è vero è vero assolutamente ma allora senti nella tua carriera abbiamo parlato ai spazi tra varissimi generi anche prima hai fatto vedere l'origine tua dei libri che parti dal medioevo il western fino al fantascienza qual è il genere che a cui sei mi pare hai già detto cavalieri però te lo richiedo qual è il genere a cui sei più apprezzionato di quei libri lì era sicuramente quello di cavalieri in generale invece ma sai è un percorso che secondo me fanno molti nel wargame cominci da più ragazzino da giovane sei più nel fantasy e nella fantascienza quindi un tempo ti avrei risposto 40.000 fantasy eccetera poi diventi vecchio e incredibilmente nella maggioranza dei casi la storia comincia a diventare sempre più interessante e quindi dici oh però però per pacco il napoleonico quando scopri il napoleonico e cominci con le uniformi i soldi ti vedi lì poi la seconda guerra mondiale con i vari film cioè ti guardi Saving Private Ryan ti guardi The Pacific The Band of Brothers cioè secondo me nella tarda età per quanto meno sia io che comunque vedo anche molti altri si tende ad andare verso lo storico più recente gioco molto a Bolt Action bene nel senso che mi diverto a giocare a Bolt Action giocavo prima prima del lockdown giocavo a Bolt Action ma è passato un po' adesso giochiamo su su Tabletop Simulator si può giocare un po' ma però per esempio io ho la fortuna incredibile che essendo molto amico dei fratelli Perry io vivo a 5 minuti a piedi dalla casa di Michael dove lui ha un tavolino in una stanza dedicata cioè una casetta dedicata ha un tavolino da 12 piedi per otto dove sostanzialmente c'è la stanza con tutti i pezzi di terreno dove dici allora posso fare qualunque periodo qualunque periodo storico geografia cioè dal deserto alla campagna eccetera e poi ci sono che cosa ci chiamo crociate allora tira fuori i cassettini cassettino tutto tutto l'esercito enorme benissimo delle crociate napoleonico ma di che parere vogliamo fare early napoleonico o tardo napoleonico oppure voltacchio si aspetta qualsiasi diciamo noi tutti stati fatti da loro ovviamente bellissimo fantastici dove si fanno se guardi sulla se fai un'occhiata sul Perry Miniatures su facebook per esempio ci sono queste campagne che facciamo con loro dove c'è da impazzire cioè l'ultima era sulla guerra civile americana fantastico cioè è il paradiso del wargame storico e quindi mi piace molto di recente devo dire mi sono appassionato molto di storico prima forse avrei risposto fantasy signor Veglianelli certamente tutta scienza mi piaceva 40.000 sicuramente ok fasi ecco io a proposito di questo di questo aneddoto che hai raccontato un po' il mio sogno sarebbe che più o meno a giro in ogni regione ci sia un luogo dove esiste un posto come quello il paradiso del wargame dove qualcuno entra dice voglio giocare a questa cosa e ci sono scenici figurini di ogni tipo e si è in grado di riprodurre quell'ambientazione quello è un po' il mio sogno sì bisogna bisogna conoscere le persone giuste a me mi viene in mente appunto di nuovo Freddy Marcarini che molti dei tuoi ascoltatori probabilmente ricordano era una persona di nuovo che aveva questa passione incredibile per il soldatino in tutte le varie forme e molto spesso andare a casa sua era un'esperienza simile nel senso organizzava tornei faceva cose era un personaggio speciale anche difficile come carattere a volte però una persona che ha avuto molto peso nella mia vita era una delle persone con cui diciamo che è una delle persone che mi ha presentato alla Games Watch però c'è un po' Bresigotti quindi ha avuto molto peso nella mia vita nella mia carriera purtroppo è mancato un paio d'anni fa però se guardate sulla storia del Wargame c'è molto il suo peso sì ok approfitto per farti qualche altra domanda tecnica che mi piace proviamo ad esempio nella stesura di un gioco in generale in un Wargame secondo te quanto quanto pesa l'ambientazione la storia rispetto alla meccanica di gioco come si bilanciano le due cose nella tua testa beh sai tornando a quello che dicevo prima l'ideale sarebbe che la meccanica di gioco scompaio nel senso che secondo me la cosa per uno che scrive regole di mestiere forse spari in un piede però secondo me l'ambientazione è più importante nel senso che quando hai fai il metagioco nella tua testa quello che vedi quando prepari l'esercito eccetera quello che la storia nella tua testa quella secondo me è la cosa più importante è il discorso perché è quello che ti spinge a cercare altre gente giocare eccetera se poi il gioco funziona ecco soprattutto se il gioco scompare le regole scompaiono e ti permettono la sensazione di giocare in quell'ambientazione se sei un napoleonico devo avere la sensazione che sì certo che posso formare un quadrato quando arriva la cavalleria allora muovo l'artiglieria per sparare al quadrato eccetera non sto pensando ma come funziona sped no ma allora ma questa regola del libro se la regola sparisce e ti fa sentire come la tua ambientazione è giusta la regola è giusta ti fa sentire che l'ambientazione funziona è la perfezione è quello che vuoi avere quindi prima l'ambientazione poi la regola però la regola deve servire l'ambientazione come spesso mi dicono ma potremmo cambiare le regole potremmo cambiare questa miniatura a volte succede quando fai lavori tipo conquest eccetera dove la gente dice ma se vuoi fare delle regole così e così poi noi cambiamo anche un po' di faccia no 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 l'ambientazione prima le regole sono molto più facili da cambiare all'ambientazione che il contrario cioè non ha senso che le regole determinano il background il background deve determinare le regole quindi questa è la mia sensazione penso che risponda anche alla mia domanda che abbiamo già estensivamente parlato su il peso della cioè non il peso su quanto difficile si possa spingere un regolamento rispetto al divertimento no il divertimento scompare via via che ci si avvicina alla complessità assoluta ma guarda il discorso del quanto crunch quanto crunch devono essere le regole non so come crunch si traduce in italiano di quanto spessore ci sia nelle regole nell'organamento eccetera io sono molto estremista in questo troppo forse alcuni direbbero troppo nel senso che non lo so un esempio classico è dire non so bolt action le submachine le intragliette dici vabbè un mp40 tedesco non è come un thompson americano e dici devono essere ma c'è una differenza chiaramente questo si ricarica il regolamento guarda è la stessa cosa sun machine gun due tiri a 12 centimetri poi ovviamente si sale ma qui ma l'armatura di questo carro sul lato in realtà era oppure questo cannone da 75 millimetri non puoi dargli le stesse caratteristiche di quel cannone da 88 millimetri perché bla 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 e dici no guarda heavy anti-tank game che non è il carro presente perché appunto quello è il discorso secondo me più ora io conosco tantissime persone che sono appassionate quindi probabilmente sono anche disposte a vendere un gioco complicato come dicevi te per per rappresentare una specifica condizione di gioco però toglie tanto al divertimento secondo me perché più pensi alle regole meno ti pensi a divertimento meno pensi alla narrazione come dici te quindi o sei disposto a rinunciare alla parte narrativa del gioco che diventa un esercizio matematico oppure narrativa o strategica nel senso che io non puoi dire anche cioè voglio dire se ti interessa il gioco più sul narrativo più sul gioco di ruolo assolutamente di nuovo regole semplici aiutano se ti interessa la parte strategica di nuovo anche in questo caso secondo me le regole semplici aiutano vedi scacchi e la cosa interessante appunto che è uno dei motivi per cui ho cambiato filosofia rispetto a quello che ai tempi era la game suorcio perché proprio come stavamo dicendo io usavo il termine chest like scacchistico come positivo e mi sono accorto dopo un po' che tutti quelli che contavano quelle persone che contavano lo usevano come negativo e quindi non è che facessi poi queste regole sono un po' chest like cioè belle qui no quindi no fanno schifo un problema fondamentale certo quindi secondo te la meccanica un po' forse più datata dell'Igo You Go rispetto alla più moderna alternanza delle attivazioni con tanto di reazione come secondo te è ancora molto valida Igo You Go oppure è completamente soppiantata guarda devo dire che di recente tendiamo a fare non usare molto l'Igo You Go perché l'attivazione alternata è ha il grosso vantaggio dell'interazione tra giocatori sostanzialmente del fatto che non hai questi cali di attenzione eccetera eccetera dove sei 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 solo guardi invece di giocare quindi mi piace sicuramente molto però di nuovo come tutte le cose secondo me ogni tanto si può esagerare per esempio nel momento in cui tu cominci a dire reazione all'attivazione io cominciano a venermi brividi perché tu cominci a dire ma la reazione alla reazione bravo e la reazione alla reazione alla reazione bravo c'è c'è un esempio concreto a questa a questa cosa che hai detto sì che sì dirò dirò che io tendo il mio advice normalmente fa va bene sì attivazioni lo preferisco anch'io di recente però le reazioni minimo 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 poco forse anche nulla perché perché il può sparare contro una carica sembra molto sofisticato e dipende in certe ambientazioni ci sta di più che in altre eccetera eccetera dipende dalla scala di velocità dalla scala di distanza in certi casi ci sta di più che non però sai il discorso del sono un lanciere polacco sto caricando questa batteria di cannoni francesi con l'artigliere che carica il cannone a mitraglia se io arrivo con la lancia prima che mi faccia fuoco è importante c'è una grossa differenza e quindi ovviamente sono cose che bisogna basarsi sul gioco e sull'estruzione anche di nuovo sul livello di complessità e dal numero di modelli perché di nuovo se io gioco con un gioco relativamente piccolo ci sta avere più sofisticazione sulle reazioni eccetera se devo controllare poche unità pochi modelli se invece c'è una cosa enorme su vasta scala comincio a dire no devo controllare la reazione di 70 altre unità perché diventa una cosa paralisi da scelta quindi l'equilibrio dipende dall'ambientazione dipende dai gusti dipende dal cliente l'attivazione alternata secondo me sì devo dire che in questo periodo sono sicuramente d'accordo che funziona è più interessante dell'Igo You Go e l'attivazione alternata io normalmente cerco di non farla diventare solo io tu io tu io tu io tu ma cerco di buttargli dentro un attimo di un twist qualcosa di interessante che normalmente baso sul comando sull'attività del comando il fatto che l'ufficiale che si attiva non attiva solo se stesso ma attiva anche un numero di subordinati eccetera quindi c'è la catena di comando rappresentata in quel modo ma sono cose cioè fare un pochino di roba interessante sull'attivazione sì però di nuovo senza esagerare perché sennò poi diventa troppo beh quanto è troppo quanto è poco questione di gusti sì però in effetti anche io mi ci ritrovo che l'Igo è una cosa un pochino può risultare noiosa a tratti per la persona che osserva anche i suoi vantaggi d'altra parte è l'avvocato del diavolo del vantaggio del fatto che se sei inamichevole e ti fidi dell'avversario puoi dire fai il tuo tour non vado a prendermi il telefono voglio dire sono cose che di nuovo io ho fatto sicuramente non nei tornei più cattivi dove invece lo stai guardando come un falco hai rubato un inchi di mezzo di mezzo in più esatto invece siamo giochiamo amichevole muovi dai io devo andare a prendere un gelato che poi c'è anche c'è anche la sfumatura dell'alternato però diviso in fasi quindi alterniamo prima la fase del movimento poi alterniamo la fase del sparo poi l'alternato del corpo a corpo che anche questo lo vedo un po' strano lo vedo una via di mezzo che è una transizione probabilmente non 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 credo di avere mai sperimentato in questo senso di avere mai provato un gioco che abbia quello di nuovo forse cercherei di tenerlo più semplice però appunto questa è che sopra una relazione così il cercherò di tenerlo più semplice è la mia risposta a tutto giusto senti poi sul mercato ultimamente appaiono sempre di più e i giochi open model o model agnostico come vengono chiamati quindi dove tu c'hai i tuoi modelli il manuale è generico e ti dà una serie di linee guida per adattare il regolamento ai modelli che già possiedi però e questo probabilmente è anche dovuto alla crescita di stampanti 3D personalizzazione dei modelli molte aziende che stampano modelli producono modelli di qualsiasi genere vogliamo trovare però mi dà l'idea che per quanto sia estremamente interessante soprattutto per i multiplayer per i giocatori omniplayer o come li vogliamo chiamare quelli che amano spaziare genere tipo non abbia spesso una grande presa sul mercato proprio perché è come se il giocatore non si riesce a identificare non riesce davvero a identificare un modello né il regolamento te cosa ne pensi? forse anche tornando al fatto che l'ambientazione è la cosa che forse è il driver maggiore la motivazione maggiore per fare un gioco secondo me di nuovo il discorso dell'ambientazione è secondo me la cosa principale le regole devono servire all'ambientazione quindi tu stai parlando di regole che non hanno allora l'ambientazione c'è però forse da quello da quello che dice potrebbe anche uscirne che il modello stesso aiuta l'ambientazione cioè nella nostra mente se non vediamo rappresentata probabilmente l'idea dell'autore stesso non riusciamo bene a immedesimare quella che era l'idea senza vedere anche il modello potrebbe essere quello se quello dal punto di vista personale come designer è chiaro che c'è una parte di me che dice cavolo piacerebbe fare il sistema perfetto generico che funziona con tutte le miniature di tutti i periodi di qualunque tentazione cioè sicuramente è una cosa che dici le regole di Alessio Cavatore lo chiamo l'Alessio Cavatore game miniature sicuramente c'è l'ambizione di quello è una tentazione adattevole ci sono già molti libri che tentano il sistema di regole che vale per tutti poi magari ti vendo il supplemento per quello cioè che c'è solo l'army list per quel periodo storico però il regolamento è il solito ci sono avere dei regolamenti di periodi simili o dei regolamenti di casa che hanno delle tematiche riconoscibili ok ci sta lo stile della casa no? lo house style che dici l'esempio della Riveros con i dadi con i dadi con quel sistema numero principale poi i dadi ci sta di avere un core come la Games Workshop aveva il profilo del personaggio era molto simile sia in fantasy che in 40.000 cioè il discorso poi negli anni si sono un po' più differenziali ma all'inizio erano letteralmente uguali e quindi avere questi questi light motive queste cose che dicono ok riconosco lo stile è un po' come quando c'è la non so senti cantare Queen anche se non conoscevi la canzone riconosci che sono Queen la voce inconfundibile di Freddie Mercury e quello stile secondo me ci sta però avere un sistema generico che funziona per tutto è un'ambizione che forse non mi sono mai sentito di affrontare mi sembra forse appunto non so forse per il fatto che penso che l'ambitazione venga prima cioè prima l'ambitazione poi le regole che fittano quell'ambientazione ma puramente dal punto di vista commerciale secondo te dal punto di vista di vendite il regolamento in sé rispetto alle miniature probabilmente come la vedi come scelta commerciale cioè riuscire a vendere un manuale che si adatta alle tue miniature qualsiasi siano sicuramente importante le miniature sono secondo me più importanti del regolamento però se però il regolamento può uscire il gioco sicuramente le miniature sono è l'ambientazione ancora prima delle miniature direi perché ormai le miniature anche spettacolari le fanno anche in parecchi però l'ambientazione di nuovo secondo me ripeterlo mi ripeto ma la storia è il motivo che ti porta a giocare le miniature sicuramente non lo rispetto con il collezionista eccetera e le regole se sono buone regole ti tengono lì non ti fanno dire che palle sto gioco non è molto più peccato perché mi piace l'ambientazione però dire mi piace l'ambientazione le regole funzionano e meno ci penso le regole meglio è le miniature sono belle forse quello che stai cercando però l'ambientazione è prima direi senti invece cosa ne pensi del gioco solitario nel wargame che è una cosa che ovviamente siamo costretti in parte da più di un anno a sperimentare ahimè contro magari il nostro interesse sì beh come ti ho detto io ho iniziato da solitario in realtà perché ti ricordi i soldatini sul sul pavimento ho anche questi libri così non è che vi giocavo con qualcun altro ho avuto fasi in cui giocavo giochi board games avalon hill mi ricordo africa core quelle cose lì non trovando nessuno a cui interessassero minimamente giocavo io ovviamente ti metti da una parte e poi ti un'allata dici era la vostra migliore possibile per questo lato schizofrenia però sicuramente al giorno d'oggi da puntista commerciale in tutti i giochi che facciamo cerchiamo sempre quella domanda c'è sempre è giocabile in solo play esiste solo play perché sappiamo che ovviamente commercialmente è una è un plus è una cosa positiva poi ovviamente adesso quasi un must ovviamente quindi sì siamo aware di quello cerchiamo sicuramente di ficcarlo in qualunque modo in tutti i giochi che possiamo poi ci sono giochi che ovviamente non funzionano però per quanto è possibile sì tipo per esempio il nostro gioco di miniatura di terminator avevamo fatto il sistema il diagramma di flusso sui terminator che dicono spara avvicinati e quindi sicuramente sì è sicuramente un fattore in più ovviamente c'è una cosa che non dovrei dirla perché non sono un lavoro nel mondo del videogioco ma c'è se proprio devo giocare in solitaria esatto c'è la tentazione di attaccarci al computer questo lo fa molto bene i giochi in solitario devo dire l'intelligenza artificiale non la muovete gioco a total war gioco a strategy command whatever ci sono i giochi che sono i classici ancora un tour ancora un tour non più un tour giuro giuro un altro tipo di droga diciamo che va molto bene che fa il solitario forse meglio purtroppo devo ammettere di altri giochi i giochi più analogici da l'impressione anche a me purtroppo sì e senti dal punto diciamo avendo te contribuito a giochi di grande successo storicamente cosa secondo te li ha fatti diventare giochi di gran successo cosa è secondo te è ancora possibile creare giochi del successo che hanno avuto che ne so warhammer fantasy battle o mordea insomma giochi di questo tipo ci stanno provando in tanti sicuramente l'ambizione di molti dei nostri clienti e sicuramente l'ambizione di molte ditte ovviamente arrivare ai livelli della ditta che in questo momento sicuramente è il monopolio del mercato la ditta diciamo quella che è la più forte ma di gran lunga la più forte possibile forse la prima ditta che riuscirà a fare quel passo tecnologico sarà la ditta che riuscirà magari a competere al momento non c'è nessuno che può comprare ovviamente noi ci stiamo provando secondo te cos'è che ha cos'è che ha contribuito magari la novità nei giochi già citati era la novità perché il mercato era vuoto era pronto a recepire certo certo c'era il grande il grande momento di genio di Ian Livingstone era quello di dire ma queste miniature cos'è per i giochi di società per i giochi di ruolo però fare le battaglie fargliene comprare tanti di queste miniature perché c'è un bel margine quindi quando hanno fatto quel passo quell'idea hanno creato il genere cioè crei un genere come sempre i grandi capolavori sono quelli che creano un genere nuovo il signore degli anelli che ha creato il fantasy Harry Potter in un certo senso che ha creato il discorso del maghetto la storia del maghetto cioè queste cose che creano un genere rimangono i capostipiti di quei generi e quello che ti dicevo secondo me forse l'unica dita che riuscirà veramente a fare una competizione notaria sarà quando magari avrà un qualcosa di così nuovo così innovativo il discorso della stampante a 3D la prima dita che riuscirà veramente a vendere delle stampanti self-contained che dici ti compri questa stampante e ti stampa le miniature te la metti a casa e ti stampi le miniature ma compri la mia stampante che gestisco io come fa l'Apple ti compri questo prodotto che in realtà è tutto chiuso un sistema chiuso controllato così allora sì però magari sarà di nuovo la stessa dita questa sarà la Getswatch potrà investire di più magari secondo me ci vuole qualcosa di radicalmente innovativo per riuscire a scalzare un titano di quel genere è difficile fargli la lotta sul suo territorio che conosce controlla molto bene sicuramente è dura è molto difficile l'asset enorme che ha la Getswatch ovviamente sono anche i negozi cioè i negozi sono una cosa che di nuovo costruire una cosa del genere come investimento non so chi vuole rischiare una cosa del genere cioè è un investimento incredibile quindi non credo che sia facile non dico che sia impossibile però sicuramente non è molto probabile non è molto facile ok va bene parliamo un pochino di più della River Horse e magari quali progetti hai per questo 2021 River Horse è nato nel 2010 l'idea era di fare i propri giochi abbiamo cominciato con un chess hammer un suro che è un misto di scatti e di war games e poi appunto siamo finiti a fare servizi 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 per un periodo fino a che noi abbiamo poi cominciato a beccare la nostra nicchia di mercato che è sostanzialmente fare i giochi su licenze prendere una licenza figa che ci piace fondamentalmente uno dei fondamenti principali di questa licenza è che devo avere la passione per questa licenza per questa attivazione e fare dei giochi basati su queste licenze dopo fare un licensing un agreement di licenza e questo ovviamente permette se hai come dicevo appunto che l'ambientazione secondo me è la cosa principale se fai un buon regolamento che rappresenta e fa sentire veramente l'ambientazione a quelli che amano quell'ambientazione quindi magari ha gente che ha una passione per un film o un libro o dei filmetti o dei cartoni animati scegli una cosa di cui tu hai passione quindi puoi fare puoi partire da questo amore e cercare di trasmettere sia nel tuo regolamento in modo che la gente che condivide quella passione lo capisca e lo senta ti do degli esempi ovviamente il nostro prodotto di maggior successo è Labyrinth basato sul film di G. Manson dell'86 quindi dici ma è una cosa vecchissima eccetera un film che mi ha formato è stato importantissimo per me quando ero ragazzino ho una passione viscerale per questa cosa ho scritto un gioco che interessante dal punto di vista delle regole è stato massacrato dalla critica è una classica storia massacrato dalla critica un semplicistico ma come nel 2015 16 questo regolamento è ancora un tiro al dado e va in finestra a destra ma cos'è Monopoli non è interessante è molto semplice continua a vendere da anni continua a vendere quantità incredibili e vedi invece le recensioni non dell'esperto su Borg & Geek ma invece vai su Amazon guardi la recensione del cliente medio normale e lì devo dire io sballo perché vedi in storiazione dove ti dicono ho fatto vedere il film ai miei ragazzi e ai miei bambini e l'abbiamo guardato assieme ce lo guardiamo a Natale e poi giochiamo e giocare al gioco è come essere nel film ci sono tutte le scene è bellissimo cantiamo ci divertiamo come famiglia e quello è l'obiettivo infatti infatti che è il motivo che io volevo trasmettere il fatto che io il gioco l'ho disegnato con mia figlia che aveva 6 anni e l'avevo appena fatto vedere il film allora vai facciamo la carta dove cantiamo Magic Dance eccetera queste cose qui e quindi quello poi My Little Pony di nuovo di nuovo con mia figlia influenza molto la mia figlia siccome mi sono imbattuto in My Little Pony questo tuo gioco di ruolo che hai con la River Horse io non gioco di ruolo molto spesso mi ero mai imbattuto in un gioco di ruolo in cui si possono coinvolgere i ragazzi molto giovani mia figlia ha 5 anni come i racconti è un gioco che lo posso proporre tranquillamente è facile su Netflix non so se anche in Italia ma in Inghilterra c'è tutta la serie hanno messo tutte le serie di My Little Pony quella che si chiama Friendship is Magic quella degli anni di adesso perché c'era già negli anni 80 ma francamente la serie degli anni 80 non mi era mai non mi aveva mai entusiasmato invece questa serie che ho fatto di recente io l'ho vista con mia figlia non l'avrei guardato da solo ma invece l'ho guardata e io sono rimasto basito ho visto il primo episodio foreste magie castelli mandicore aghi incantesimi bello e poi tutto condito con un quindi un'ambientazione fantasy condita con dei personaggi che sono dolcissimi simpaticissimi e con un messaggio di base che secondo me è fortissimo il discorso dell'amicizia cioè la serie si chiama l'amicizia è magica è magia ed è tutto basato sul risolvere i problemi i conflitti senza con l'amicizia l'importanza di questo molti dei super dei villain dei cattivi delle varie serie anche i cattivi principali di ogni serie molto spesso nella serie successiva sono amici e diventano alleati e diventano succede spesso non sempre ma spesso quindi è una filosofia di base molto bella molto wholesome mi consigli di vedere prima il cartone guardati sicuramente guarda un po' il cartone e poi dopo provare il gioco se vi piace se vi interessa se vi interessa così si può guardare i cartoni poi puoi provare la cosa la cosa più interessante è appunto questo scambio fra l'ambientazione te la racconta un po' il cartone quindi hai anche per il bimbo è più facile immedesimarsi in quello che sta succedendo ma è molto forte come cosa bello è la forza dei giochi su licenza perché vai ad attingere a un audience grande o piccola o più o meno grande dipende dall'audience che ha una passione che tu condividi nel mio caso che io condivido e cerco di scrivere delle regole semplici che ti facciano provare la sensazione il messaggio principale di quell'ambientazione che per me per My Little Pony è l'amicizia per il divertimento è l'amicizia l'avventura fantasy per labyrinth è di nuovo l'avventura fantasy ma buffa ridere cantare questa cosa non prenderti sul serio la cosa è tutto cioè David Bowie vestito in quel modo con i capelli così che non si prendeva sul serio quindi dici non prenderti sul serio poi invece ci sono altre ambientazioni che abbiamo preso molto più cruente cioè Pacific Rim che di nuovo invece lotta contro l'estinzione ecco prima mi hai detto che Pacific Rim è un wargame me ne dici di più che non ne so nulla sì è un non so se è un film mi sentiamo certo tra i montoni e mostroni kaiju che vogliono distruggere la terra come al solito l'umanità che combatte con questi giant robo il gioco è un predipinto sono pezzi grossi tipo quasi action figures 70 mm 80 mm così sono predipinti abbiamo fatto un kickstarter poi ci siamo dopo la prima wave del kickstarter c'è arrivato il covid boom e ci siamo arenati adesso stiamo lanciando ovviamente ci stiamo ripresi dopo il covid abbiamo dopo il lockdown grosso e adesso stiamo facendo la wave 2 come funziona qual è la meccanica di gioco brevissimamente brevissimamente controlli un numero di modelli da 1 a 2, 3, 4 di più sono troppi io francamente mi piace molto giocare con 1 magari 2 a testa nel senso che possiamo giocare in 3 noi 3 con un modello o 2 a testa contro 2 di voi o 3 di voi quindi avere 3, 4, 5 modelli con 2, 3 giocatori per lato secondo me è la cosa più divertente si può giocare anche 1 contro 1 per carità però forse perché sono vecchio non voglio controllare tutte queste cose perché sono molto dettagliati ogni mecc o kaiju ha 6 carte le 6 carte sono le azioni che puoi fare quindi c'è la carta corri o energizzati che è una carta principale che puoi usare ci sono tipo 2 o 3 carte che hanno tutti correre attaccare corpo a corpo eccetera e poi ci sono le carte più uniche tipo non so il cannone al plasma quell'altro c'ha il grido quell'altro c'ha il tentacolo la coda eccetera ci sono varie cose quello c'è il mortaio e via dicendo ogni pezzo ha le sue specialità e quindi come team stai cercando di fare degli obiettivi che normalmente risolvono o distruggere gli avversari o salvare la città perché giochi sempre in mezzo a edifici in cartoncino che puoi costruire che sono sempre parte dell'obiettivo della missione ma perché i cagli tendono a distruggerli e i yeggers tendono a proteggere la città è su griglia comunque no 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 è un wargame nel senso non ha un grid c'è un playmat piccolino nella scatola base ma in realtà dopo un po' ti rimane piccolo quella quindi ovviamente suggeriremo un tavolo da wargame c'è una sagoma che fai un punch out è una sagoma dentro nel argomento principale che usi sia per misurare le distanze cioè è una specie è una cosa che ha una sagoma fatta a esagoni la base del modello è un esagono quindi in realtà puoi muovere il modello facendo uno, due, tre di fianco alla tua sagoma ci sono proprio gli cavità e poi con la stessa cavità puoi ruotare dentro la cavità all'esagono quindi puoi fare click però in realtà sei libero nello spazio la cosa carina secondo me è lì è che quando cioè tu pianifichi l'azione dei tuoi modelli mettendo la carta che dici questo turno faccio questo la metti giù tutti mettono giù le carte dei vari modelli poi si rivelano tutte al tempo stesso così vedi cosa fanno tutti gli altri poi in ordine è un random di attivazione attivi muovi eccetera fai altra cosa che hai pianificato prima e la cosa interessante è che quando prendi danno per esempio io ti faccio il caso ti attacca ti faccio un numero di danni se non hai un attacco che ha delle regole speciali eccetera tu hai le tue sei carte o cinque carte in mano e per farti il danno io prendo una delle tue carte a caso perché tu la stai tenendo così quindi ti prendo una delle carte a caso e la estraggo e la giro e dico adesso invece perché ogni carta ha l'effetto del danno quindi perdi il cannone al plasma ti dice esplosione delle munizioni del sistema del riferimento del plasma danno addizionale quindi in realtà perdi un'azione perché tutto che il plasma ti è stato strappato dal caraggio quindi non ce l'hai più e ti fa il danno interno e prendi quella carta la metti sotto la tua scheda del personaggio come danno quando hai un certo numero di schede sotto di quando hai perso due o tre o quattro azioni dipende da quanti punti ferita hai poi si distruggi i kaiju sono più resistenti possono essere uccisi solo in quel modo facendogli tanto danno invece i yeagers hanno il problema che se la carta che peschi è quella dei piloti nel senso che il kaiju è tanto un pugno nella cabina di pilotaggio quindi i yeager possono morire in un colpo solo il kaiju è più difficile ci sono i danni super critici sei proprio un fake però è molto difficile uccidere un kaiju in un colpo solo mentre i yeager hanno quella debolezza lì i piloti mi hai già convinto adesso mi toccherà comprarlo ah certo Cosmic Games Cosmic Games sì 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 vabbè comunque adesso con la seconda edizione con la seconda ondata ci saranno parecchi modelli in più facciamo parecchi soprattutto modelli basati sul primo film che a mio parere è molto meglio del secondo film ma molto meglio non so se hai visto la serie uscita su netflix appena uscita adesso l'ha fatto un anime non ho fatto una serie addirittura mi aspettavo ero molto paura non avendo netflix non l'ho guardata interessante quali altri progetti quindi abbiamo fatto tanta roba abbiamo fatto Hunger Games abbiamo fatto Highlander che di nuovo passione per i Queen è una cosa che io so da sempre è un gioco da tavolo è un gioco di carte con miniature quindi un board games essenzialmente carte e miniature si tendiamo a fare con miniature quando è possibile abbiamo fatto giochi di Terminator abbiamo fatto ovviamente My Little Pony di Labyrinth e Dark Crystal anche abbiamo fatto parecchia roba la cosa più recente è stato questo gioco di ruolo su Labyrinth che è tutto in un libro tutto in un libro unico che è un libro un po' speciale è un libro magico nel senso che dentro al libro ci sono c'è una cavità e ci sono i dadi ai rubri che è un pozzo come nel film è un gioco di ruolo semplice per principianti nel senso che non devi essere un esperto di gioco di ruolo per giocarci molto divertente buffo ovviamente di nuovo non si prende seriamente quindi altri progetti che stiamo lavorando dunque stiamo facendo altri progetti con la Handsome con la G. Manson Company che devo dire sono fantastici da lavorarci insieme non so se hai visto più come su Netflix c'è Dark Crystal Age of Resistance che hanno fatto una serie nuova di recente per continuare la storia del Dark Crystal e stiamo facendo un gioco di ruolo per quello e stiamo facendo altri giochi Hanson stiamo facendo la seconda data di Pacific Rim oltre come sempre appunto a giochi per altre ditte come per la Mantic per Draco Studios per la Warborn quindi diciamo sicuramente vi vedremo il tuo nome o comunque della River Wars su altri manuali Wargame nel prossimo futuro sì controllate se andate a vedere Draco Dragon Bond è il nuovo Wargame che poi io prima dell'intervista a Titti citavo che sono andato a fare due chiacchiere con i ragazzi a Parabellum Games e aprendo il manuale di Conquest Violas Cavatore River Wars ho detto no è impossibile sì dicevo che abbiamo le mani in pasta in parecchio del Wargame tra l'altro Titti manda me lo saluti mi ha detto salutamelo sapevano che parlavo con te è tanto ok guarda ti ringrazio tantissimo Alessi mi ha fatto veramente molto piacere parlare con te e spero di averti in qualche altra prossima intervista a parlare di qualche nuovo gioco magari in futuro tipo di cose di cui non posso parlare al momento che quando mi chiedi queste domande su cosa stai lavorando ho in mente cosa posso parlare non lo so sicuro ok va bene grazie per avermi per avermi avuto come ospite è stato un piacere come probabilmente hai notato mi piace parlare sono un ottimo argomento me stesso come diceva Woody Allen ma adesso basta parlare di me cosa ne pensi di me mi ha fatto molto piacere soprattutto sotto l'aspetto tecnico si vede insomma che non sei nuovo nell'ambiente fantastico 25 anni bene grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo momento un saluto e al prossimo episodio grazie Alessio ancora grazie a te grazie a te